Margherita Grambassi, testimonial di Special Olympics e madrina di quest'ultimo appuntamento dei giochi nazionali estivi Special Olympics. Che emozione è essere qui? Sicuramente una grandissima emozione, molto importante. Penso essere presenti a questo tipo di manifestazioni. Io sono una sportiva, ho sempre amato tantissimo lo sport e a maggior ragione amo queste manifestazioni che trovo siano geniali. Penso che sarà una cosa veramente emozionante. Tra l'altro sarò sul palco insieme a Raffaele Italiano a presentare la manifestazione d'apertura e credo che ricorderò molti momenti di quelle che ho fatto e nelle quali sono stata protagonista le Olimpiadi di Atene e di Pechino e spero che tutti i ragazzi questa sera provino le stesse emozioni che ho provato io, anzi sono certa che sarà così. Sport, quando parliamo di Special Olympics parliamo di sport, di competizioni ma anche di un qualcosa che va oltre che in qualche modo poi rispecchia i veri valori dello sport. Che cosa significa per questi atleti poter mostrare le proprie capacità? Che cosa significa per te poter fare sport a tutti i livelli di abilità? Credo che Special Olympics mandi un messaggio veramente forte. Rappresentano queste manifestazioni e lo spirito con cui loro competono rappresentano davvero i veri valori dello sport. Parliamo di cercare di superare i propri limiti, parliamo di sentirsi a proprio agio di cercare di migliorarsi sempre. Poi la grande novità e la cosa bellissima saranno i giochi condivisi perché ci saranno delle gare in cui atleti special e atleti non special giocheranno insieme per cui penso che sia un momento speciale veramente per poter imparare l'uno dall'altro per poter condividere tante cose e un grande momento di inclusione. e credo che questo sia proprio l'inclusione, credo che sia il termine principale e quello che più rappresenta lo spirito di Special Olympics. Un'opportunità anche per il territorio. Questi giochi fanno capire, avvicinano e sensibilizzano la comunità al tema della sensibilità intellettiva. Biella non è nuova in questi eventi per il terzo anno e è un'opportunità di crescita quindi anche per la comunità? Sicuramente un'opportunità di crescita per tutti, penso che veramente sia un grandissimo scambio e credo che questa sia la parte più bella, sentirsi proprio una cosa unica perché siamo una cosa unica e quindi davvero sarà una serata speciale ma non deve essere soltanto una serata, deve essere proprio un modo di essere di chiunque. Deve essere la normalità poter stare insieme e condividere dei bei momenti e cercare di... prima parlavamo di inclusione, dove veramente... e parlavi di possibilità per il territorio, credo che sia una grandissima possibilità proprio per tutti. Ultima domanda, da domani iniziano le gare, un in bocca al lupo della sportiva a tanti altri sportivi che gareggeranno? Beh sicuramente un grandissimo in bocca al lupo, mettetecela tutta, tra l'altro c'è un motto di Special Olympics che conosciamo tutti e ovviamente tutti vogliono cercare di vincere ma l'importante è proprio cercare di dare tutti il massimo e sono sicura che ogni atleta cercherà di fare tutto quello che può e di superare i suoi limiti. Grazie.